Il 4 aprile 2014 le classi quarte dell'Istituto Tecnico Agrario Giovanni Vivarelli di Fabriano hanno visitato un bene confiscato alla mafia ad Isola del Piano, Pesaro Urbino. Ad accoglierli Michele Altomeni, coordinatore libera della provincia di Pesaro Urbino. Volevamo sapere che associazione è Libera e quando è nata. Libera nasce in seguito alle stragi del 92, quando la mafia, in particolare i corleonesi siciliani, decisero di dichiarare guerra allo Stato e lo fecero con una serie di attentati, tra questi appunto quelli che portarono alla morte dei giudici Falcone e Borsellino. A seguito di quella vicenda ci fu una grossa mobilitazione popolare, quindi la società civile in qualche modo sentì il bisogno di manifestare la propria contrarietà a queste mafie e da questa mobilitazione nacque un po' l'idea di creare un organismo di coordinamento tra tutte queste associazioni che raggruppasse quella che appunto da quel momento fu definita l'antimafia sociale, cioè l'antimafia che avrebbe affiancato l'antimafia fatta dalle istituzioni, dai giudici, dai poliziotti, un'antimafia fatta dalla società civile, quindi dalle persone e dalle associazioni. E quindi Libera nacque da questa aggregazione, ci furono grosse manifestazioni, si decise di creare questa associazione di associazioni. La prima cosa che fece fu una raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che sostanzialmente diceva che i beni confiscati alla criminalità organizzata dovessero essere restituiti alla società con finalità sociali, quindi non più rimessi, come spesso succedeva, rimessi in vendita, perché poi spesso succedeva che a ricomprarli erano le stesse famiglie mafiose a cui erano stati confiscati, ma appunto che fossero rimessi in circolazione con scopi sociali. E Libera accompagnò anche molti di questi percorsi, per cui nacquero tante cooperative, anche nel sud Italia, che rimisero in funzione aziende, attività agricole in particolari, delle quali oggi noi troviamo i prodotti a marchio Libera Terra, ad esempio anche nei supermercati COP. In questi percorsi di confisca di questi beni, quali sono i problemi che si possono riscontrare anche nella politica o nelle leggi? Allora, ci sono in realtà diversi problemi. Uno dei problemi è dovuto al fatto che i beni ormai cominciano ad essere tanti, cioè il patrimonio confiscato alle mafie è enorme e questo patrimonio viene gestito, diciamo, viene accolto in prima istanza dallo Stato attraverso un'agenzia che è stata costituita appositamente, che però non ha le forze in realtà per garantire la gestione di tutti questi beni. Quindi un primo problema è trovare qualcuno, diciamo, che gestisca, che possa gestire e rimettere in funzione questi beni. Anche perché spesso questi beni sono in condizioni non buone, anche delle aziende, magari arrivano, siccome hanno subito un lungo iter processuale, magari un'azienda dal momento in cui è stata sequestrata, al momento della confisca e dell'assegnazione sono passati degli anni e quindi nel frattempo i lavoratori se ne sono andati, i mezzi sono diventati obsoleti, quindi anche rimettere in piedi un'azienda a causa di questi lunghi tempi è problematico. Un altro problema grosso che ci troviamo su questo fronte è quello delle ipoteche. Cioè molto spesso questi beni hanno delle ipoteche bancarie sopra. Quindi nel momento della confisca definitiva le banche rivendicano i loro diritti, cioè dicono in realtà quella proprietà lì, siccome io avevo dato un prestito e questi soldi non mi sono stati restituiti interamente, in realtà un pezzo di quella proprietà è mia. Quindi si apre un contenzioso tra le banche e lo Stato che spesso blocca ulteriormente e fa perdere ulteriore tempo. Quindi sicuramente questa legge sui beni confiscati ha bisogno di alcuni aggiustamenti che da una parte semplificano gli interburocratici, l'altro problema è che bisognerebbe cominciare a individuare dei fondi per il riutilizzo di questi beni, quindi per ristrutturarli, come nel caso in cui ci ritroviamo, e che quindi semplifichi anche il fatto che qualcuno scelga di accettarli e di avviarci sopra un'attività. L'altro problema fondamentale è che le aziende confiscate debbano mantenere una loro continuità produttiva, cioè nel momento in cui io stato la sequestro e l'iter processuale non sia ancora concluso, devo trovare il modo di garantire che i lavoratori continuino a lavorare, altrimenti si rischia anche di innescare una dinamica brutta che è quella che sul territorio, semplificando, si possa dire finché c'era il boss mafioso c'era il lavoro, adesso è arrivato lo Stato, abbiamo perso il lavoro. Questa cosa non è accettabile proprio dal punto di vista etico. Grazie. 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 Grazie.